Ciao a tutti ragazzi, come sempre prima di cominciare con il video voglio ricordarvi che ogni lunedì facciamo una nuova giveaway e spiegherò in qualsiasi momento durante il video come partecipare, quindi seguite il video fino in fondo e buona fortuna a tutti. E se non siete iscritti potreste considerare l'iscrizione e di attivare anche la campanella, sarebbe assolutamente fantastico e quindi grazie mille ragazzi, adesso cominciamo con il video. Ragazzi oggi abbiamo un aggiornamento urgente su quello che sta accadendo con le cripto, con Chelsea's Network e riguardo MicroStrategy e tutto quanto quello che sta accadendo nel mercato. E se non siete iscritti potreste considerare l'iscrizione, sarebbe fantastico perché abbiamo un aggiornamento urgente e quindi ragazzi possiamo vedere che Bitcoin è sceso nella nostra fascia blu nel grafico da 4 ore. E questo livello è stato segnato molto tempo fa, per questo non è arancione, ma siamo arrivati insomma a questo livello e adesso stiamo trovando un po' di supporto. Ma la cosa di cui dobbiamo parlare ora è ovviamente Chelsea's ragazzi, perché dobbiamo anche dire che i mercati tradizionali come per esempio Nasdaq, anche l'SP500 e in tutto quanto il mondo stanno scendendo, ma ovviamente Chelsea's Network sta avendo molta molta pressione sul mercato delle criptovalute. E quindi riguardo Chelsea's è che hanno un prestito enorme, hanno preso un enorme prestito in DAI, che è una stablecoin, ed hanno messo in garanzia dei RAP Bitcoin e ora la liquidazione per questa posizione era inizialmente a 23.000 dollari, poi la posizione è scesa a 20.000 dollari ed ora è scesa ancora di più a 18.000 dollari. E quindi ragazzi ciò che Chelsea sta facendo adesso è davvero molto molto interessante perché possiamo vedere per esempio i dati on-chain, ovvero che stanno aggiungendo sempre più garanzie per abbassare il prezzo di liquidazione. E ora non abbiamo un annuncio ufficiale da parte di Chelsea's adesso perché onestamente appunto non ho ancora detto nulla o ho annunciato nulla ufficialmente e quindi tutto ciò che possiamo fare è guardare quello che sta accadendo on-chain e cosa è già accaduto appunto on-chain. Possiamo vedere alcune delle loro posizioni e sembra che per ora tutto quanto vada bene e quindi prima di tutto non sono in grado di dare nulla alle persone che vogliono riprendersi le loro criptovalute indietro, non sono in grado di inviarle ai clienti ed ecco perché hanno interrotto appunto i prelievi. Ma quello che stanno facendo è che invece che dire per esempio ok guardate potremmo per esempio essere in grado di rimborsare il 70% dei fondi o l'80% dei fondi, sembra proprio che stiano prendendo tutti quanti i fondi che hanno e li stanno usando come garanzia e quindi stanno prendendo in presto stable coins adesso per pagare le persone che hanno appunto bisogno di pagare insomma. E questo ragazzi è un grosso grosso rischio, questo qua non è confermato ovviamente perché non abbiamo una dichiarazione ufficiale da parte loro quindi non può essere confermato ma quello che possiamo vedere appunto nel grafico è che questo prezzo di liquidazione era 23.000 dollari poi è sceso invece a 20.000 dollari e adesso invece a 18.000 dollari ma se raggiungono il prezzo di liquidazione che è solo un paio di miliardi di dollari di distanza andranno a perdere tutti quanti 500 milioni di dollari il che è un importo veramente veramente assurdo ragazzi. Ma questa qua quindi è la situazione, questa qua è ciò che vediamo on chain adesso e quindi stanno correndo enormi rischi e sembra che stiano facendo con i soldi appunto delle persone quindi speriamo che CESQ non esploda in quanto se dovessero essere liquidati avremo molti problemi nel defi in generale o ci potrebbero volere anche anni per ripristinare il mercato come era prima ma avremo grossi grossi problemi per via di questo fatto di CESQ che cerca di aggiungere garanzie ed abbassare il prezzo di liquidazione che è come guardare il peg di UST che cerca di essere difeso il che è completamente folle ed una cosa che dovete anche capire come dice Larry Cermak che molte persone non sanno quanto defi sia composto esattamente da CESQ che inserisce semplicemente i soldi dei loro clienti in questi protocolli se dovessero quindi perdere quei fondi il TVL andrà completamente a crollare e inoltre un sacco di proprio fondi e market maker prendono in prestito i fondi sotto garanzia da CESQ e quindi l'impatto sarebbe veramente enorme e anche se ciò non bastasse diamo anche un'occhiata a cosa ha detto Justinson e quindi se guardiamo per esempio a USDD che è una stable coin ovviamente potete vedere appunto che il peg adesso non è esattamente a un dollaro ma questo ha iniziato a non essere più stabile in realtà era in calore a 98 centesimi proprio come è accaduto anche a UST perché ha iniziato a scendere a 98-97 ma poi ha riguardato il suo ancoraggio Justinson che è il formatore di Tron del protocollo di USDD quindi ha pubblicato questo post dove dice che short in TRX su Binance è in negativo del 500% quindi quello che voleva fare è acquistare un sacco di Tron così da liquidare tutte quante le persone in short il che è davvero interessante detto da un fondatore di un progetto ma questo è quello che ha detto e questo è il mondo delle crypto ragazzi questo qua è completamente folle e per di più abbiamo ancora dell'altro perché MicroStrategy come sapete ha molti Bitcoin ma una cosa che hanno fatto è che hanno preso un impresto contro i loro Bitcoin per acquistare più Bitcoin e come è stato anche riportato in questo articolo sembra che ci sia un prezzo di liquidazione e se il prezzo di Bitcoin dovesse raggiungere i 21.000 dollari allora la società si troverà nella situazione peggiore in quanto avranno potenzialmente una margin call però come sapete ragazzi i MicroStrategy e Michael Saylor hanno un sacco di soldi quindi questo articolo è stato pubblicato quando Bitcoin era a 30.000 dollari o qualcosa del genere ed ovviamente sono in grado di aggiungere più margine se devono farlo ma vi sto solo informando riguardo a questo articolo in quanto sta ovviamente contribuendo al fold che abbiamo intorno a noi adesso e per quanto riguarda invece noi stessi le criptovalute non stanno vedendo una buona giornata noi siamo giù nei nostri trades ma come abbiamo anche detto diverse volte nel canale avevamo previsto di andare di lato per diverso tempo e poi di vedere un consolidamento verso il basso quindi eravamo preparati per non vedere nuovi massimi storici a breve diciamo ma queste cose accadono nel mondo delle cripto non possiamo dire di essere stati preparati per questa enorme discesa generale e tutti questi fatti che sono avvenuti e quello che dirò è che stiamo anche potenzialmente raggiungendo la 21MA adesso e quindi voglio mostrarvi in realtà il grafico settimanale perché anzi in realtà non è la 21MA scusate ma è la media mobile da 200 settimane e questo quindi è un livello molto molto importante perché potete vedere che ha superato il prezzo per molte molte volte ci ha superato in questa occasione per esempio in passato ci ha superato anche in questa occasione ci sta supportando anche adesso se controlliamo e quindi questo ha resistito in ogni ciclo del mercato in ogni occasione in cui siamo scesi verso il basso non abbiamo mai chiuso sotto questo livello e quindi siamo ad un enorme livello di supporto adesso ragazzi ma abbiamo sbagliato forse dire che il fondo di bitcoin sarebbe stato nella zona generale dove abbiamo visto il precedente minimo che era 24.000 dollari circa beh direi che onestamente abbiamo veramente sbagliato perché adesso siamo decisamente più in basso del minimo precedente siamo scesi del 10% dal precedente minimo e quindi ci siamo sbagliati ovviamente abbiamo troppi fatti insulti nel mercato adesso bitcoin non può supportare tutto questo è troppo liquido abbiamo il mercato che scende da tutti quanti i mercati di tutto quanto il mondo che scendono luna che crolla celsius che sta crollando abbiamo troppe incertezze del mercato e quindi questa è la situazione che abbiamo questa qua è la realtà della situazione e speriamo appunto che celsius non venga liquidato da questa posizione ragazzi ma adesso stop un attimo il video vi spiego come partecipare alla giveaway per partecipare alla giveaway dovete semplicemente essere iscritti al canale e rispondere a questa domanda nella sezione dei commenti pensate che la situazione di celsius andrà a risolversi oppure pensate che verranno liquidati fatemi sapere nei commenti e inviate anche il vostro portafoglio di Binance Smart Chain altrimenti non possiamo selezionarvi come vincitori è giusto perché ne basta inviare il portafoglio una volta soltanto anche se rispondete a più domande e più video e noi controlleremo l'indirizzo tramite lo storico dei commenti e quindi ragazzi buona fortuna a tutti e adesso continuiamo con il video vi ritrovo aggiornati come sempre quindi se non ci seguite assicuratevi appunto di iscrivervi e di te avere anche la campanella e come sempre ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti